Salve a tutti, ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In primo piano l'ipotesi sempre più concreta di una zona rossa per tutto il territorio nazionale. Il Presidente De Luca critica fortemente l'indecisione del Governo. Passiamo poi a fare il punto sulla situazione dei contagi nei comuni vesuviani. Ancora in diminuzione i positivi giornalieri. Ci occuperemo poi di cronaca, maxi operazione della polizia postale che mette a segno un duro colpo alla pedopornografia e alla diffusione dei materiali nel web. Occupiamoci poi ancora di cronaca, passiamo ad un'operazione delle fiamme gialle di Napoli che sequestrano 14 tonnellate di anfetamine. Infine l'iniziativa della Scuola d'Assisi Don Bosco di Torre del Greco, libri di testo gratis per tutti gli studenti. Questa mattina c'è stata la consegna dei voucher ai genitori. Vediamo. Tutta Italia è in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre al 3 gennaio. E' l'ipotesi prevalente nel governo al termine di un primo vertice con i presidenti di Regione. La decisione non è presa, si attende un nuovo incontro. Ma l'ipotesi è disporre regole da zona rossa il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l'1, 2 e 3 gennaio. Secondo alcune fonti la discussione è ancora tutta aperta. Però non è escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio o si introducano per l'intero periodo regole da zona arancione. Il governo sta anche valutando la possibilità di una deroga al divieto di spostamenti tra comuni ed eventualmente anche all'interno di uno stesso comune in caso di ripristino nella zona rossa per i congiunti più stretti in occasione cenone della vigilia di Natale e pranzo del 25. La deroga in ogni caso riguarderebbe un numero strettissimo di due congiunti. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha contestato duramente l'indecisione del governo. Sono irritato e indignato, ha affermato, perché nel nostro paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e che si continuano a prendere mezze misure di demagogia che allungano i tempi della crisi. Si prenda, conclude, una decisione chiara e forte come la Germania. Per il governatore dare la possibilità agli anziani di unirsi alle famiglie per Natale non è un atto di generosità, è un atto di idiozia, di responsabilità. Se facciamo venire a casa nelle feste i nostri anziani, ha tuonato il presidente, li condanniamo alle terapie intensive a gennaio. Sono 17 le guarigioni registrate ieri a Torre del Greco. Certificati anche 4 nuovi casi di positività al Covid-19, tutti posti in isolamento domiciliare. Attestato inoltre il decesso di un cittadino classe 1959. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco, 380 attuali positivi, di cui 30 ricoverati e 350 in isolamento domiciliare, 1876 guariti e 58 decessi. A Castellammare di Sabia sono stati registrati nelle ultime 48 ore 15 nuovi casi di positività al Covid-19. 6 di essi risultano avere sintomi della malattia, un 59enne si trova ricoverato. Dichiarati guariti in oltre 61 cittadini. Tra coloro che hanno sconfitto il virus c'è un bimbo di 3 anni, un 13enne e 3 16enni. Il bilancio dei contagi a Castellammare conta attualmente 1.538 positivi, 1.088 guariti e 27 decessi. Dai dati rilevati nei giorni 14 e 15 dicembre accertati nella città di Portici, 12 casi di nuovi positivi su un totale di 229 tamponi. Scende dunque la percentuale dei contagiati sul numero dei tamponi effettuati, che si attesta al 5,2%. Oltre 300 uomini della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni e arresti in 53 province e 18 regioni italiane. Dopo due anni di indagini condotte sotto copertura, sono stati identificati 432 utenti che, sfruttando le potenzialità delle applicazioni WhatsApp e Telegram, partecipavano a canali e gruppi finalizzati alla condivisione di materiale pedopornografico. Gli abusi in particolare riguardavano prevalentemente bambini in tenere età e, in alcuni casi, anche neonati. Dei 159 gruppi individuali dagli investigatori, 16 erano delle vere e proprie associazioni per delinquere, al cui interno era possibile distinguere promotori, organizzatori e partecipi. Sono 81 gli italiani identificati dalla Polizia Postale in tutta Italia, due dei quali un ottico con collaborazione universitaria napoletano di 71 anni e un disoccupato veneziano di anni 20. Essi promuovevano e gestivano gruppi pedopornografici, organizzando le attività e reclutando nuovi sodali provenienti da ogni parte del mondo. Nel territorio campano sono state eseguite sette perquisizioni, di cui quattro nella provincia di Napoli, due in quella di Caserta e una nella provincia di Salerno. Proprio la Campania, insieme alla Lombardia, risultano le regioni più interessate, con il 35% di residenti inclusi nell'operazione. Le attività di polizia giudiziaria eseguite hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi e account in uso agli indagati, utilizzati per lo scambio di materiale pedopornografico. Uno degli indagati, un 25enne napoletano, è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di foto e video a carattere pedopornografico, che ritraevano violenze e abusi su minore in tenera età. Ben 351 sono gli utenti stranieri coinvolti nell'indagine, per ciascuno dei quali sono state raccolte tutte le tracce informatiche utili alla loro identificazione. L'attività svolta ha evidenziato come il fenomeno criminale in argomento sia assolutamente trasversale, dal momento che tra gli indagati figurano persone di estrazione sociale ed età molto eterogenee, che oscillano tra i 18 e i 71 anni. Torna ad attualità l'operazione Captagon, il sequestro di 14 tonnellate di anfetamine effettuato dal gruppo Investigazione e Criminalità Organizzata di Napoli, nel porto di Salerno, nel mese di giugno. Gli investigatori antimafia delle ferme gialle partenopee, nell'ambito della stessa indagine, poche settimane prima avevano effettuato un altro sequestro di 2,8 tonnellate di hashish. Poi a fine giugno, il mega sequestro di anfetamine provenienti dalla Siria, culmere di un'operazione dal valore superiore al miliardo di euro. Da allora le indagini sono proseguite, sia nell'ottica di individuare tutti i soggetti coinvolti nel traffico, sia i mercati di destinazione, che sembrano proprio essere stati arabi nel Nord Africa. Dopo aver completato tutte le analisi, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli ha eseguito in queste ore l'operazione di distruzione di tutta la droga, all'interno di un termovalorizzatore di Ravenna. Il trasporto è stato eseguito in queste ore da un convoglio composto da due ato articolati contenenti le oltre 16 tonnellate di stupefacenti, scortati da mezzi terrestri e aerei, che si sono mossi nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17, per arrivare a Ravenna alle prime luci dell'alba. Per le operazioni di scorta è stato approntato un imponente dispositivo di sicurezza, con oltre 50 finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, 9 autoveicoli e 2 elicotteri del Centro di Aviazione di Pratica di Mare, che hanno scortato il convoglio durante tutto il tragitto. Libri scolastici gratuiti per tutti gli alunni e il plesso Don Bosco d'Assisi. Mentre la didattica a distanza mette a dura prova scuole e studenti, la dirigente Ammirati ha lavorato giorno dopo giorno per ottenere i finanziamenti necessari a un ritorno fra i banchi non solo sicuro, ma che non pesi troppo sulle finanze delle famiglie già provate dalla crisi economica. Questa mattina, nel rispetto dell'enorme anticontaggio, la preside ha incontrato i genitori nell'aulamagna della D'Assisi. A ognuno di loro è stata consegnata una borsa di tela recante il logo della scuola, una borraccia in alluminio ed un voucher. Tramite questo voucher si potranno richiedere, da oggi o direttamente all'inizio del prossimo anno, i testi scolastici gratuiti, tre volumi delle materie principali. Il progetto è nato dalla partecipazione ad un avviso del Ministero. Il Ministero ha messo a bando la possibilità per le scuole di partecipare, per avere dei fondi per poter acquistare libri scolastici. A questo bando noi abbiamo risposto, era il mese di agosto, molti erano in ferie, noi eravamo qui come sempre a lavorare per la nostra scuola, abbiamo risposto a questo bando, siamo stati finanziati e abbiamo proceduto all'acquisto di circa 800 volumi che distribuiremo gratuitamente agli alunni che frequentano attualmente la scuola e penso che riusciremo a dotare di tali libri anche gli alunni che cominceranno l'anno prossimo il loro percorso alla scuola secondaria di primo grado. Concludiamo questo anno solare che ci ha visti drammaticamente protagonisti di eventi luttuosi, tutti ricordano ciò che ci è accaduto. Noi usciamo, concludiamo quest'anno con un atto di speranza, con un atto di forza che è quello di sostenere l'istruzione pubblica fortemente impegnandoci in maniera concreta per quelle famiglie, per tutte le famiglie della nostra scuola che chi più chi meno ha risentito di quella che è stata la crisi seguita alla pandemia. Un anno complicato per tutte le scuole italiane, un anno in cui si è detto che la scuola si è fermata. Come sta andando avanti l'attività della scuola? Come procedono i vari progetti della scuola in questo periodo? La nostra scuola non si è mai fermata. Abbiamo cominciato fin da subito a fornire ai nostri alunni gli strumenti multimediali tablet per poter partecipare alla didattica a distanza. La prima consegna è avvenuta il 28 marzo dello scorso anno, quando ancora la didattica a distanza non era stata resa obbligatoria. Abbiamo continuato con la distribuzione dei dispositivi, oggi contiamo di aver distribuito più di 100 tablet a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Inoltre abbiamo continuato a partecipare a delle progettazioni per accedere a finanziamenti e l'esempio dei libri è un esempio di tale dinamismo della scuola e stiamo portando avanti anche i nostri progetti PON a distanza utilizzando le piattaforme. Ed in questi giorni si sta svolgendo l'ultimo meeting del progetto Erasmus che aveva visto l'anno scorso presso la nostra scuola delegazioni spagnole, francesi e lituane, oggi si sta svolgendo a distanza il meeting in Lituania a cui stanno partecipando i nostri alunni. Qual è l'appello che si sente di lanciare ai tanti ragazzi che devono iniziare o stanno vivendo questa situazione scolastica? È un momento difficile, la scuola è luogo di vita, è importante la ripresa in presenza delle attività didattiche perché, come ho già dichiarato altre volte, l'istruzione si può recuperare anche con la didattica a distanza ma le attività di relazione e di socializzazione fondamentali per i ragazzi della scuola del primo ciclo ma credo che per tutti gli studenti, quelle non si possono recuperare con la didattica a distanza. Noi stiamo supportando i nostri alunni e i nostri genitori anche con uno sportello psicologico proprio per accompagnarli a metabolizzare le difficoltà dovute da una forma di esplicazione della didattica che non è naturale. Termina anche questa edizione del nostro Tg, come sempre vi ricordo i recapiti per contattare la nostra redazione il nostro indirizzo mail redazionechiocciolatvcity.it per tutte le vostre segnalazioni invece il nostro numero di telefono è 340 6561 484 Grazie dell'attenzione, arrivederci, a presto! Grazie a tutti!